La corrispondenza in alcune frazioni del Comune di Castellabate continua a non essere recapitata o ad esserlo con estremo ritardo. Considerando che si tratta di un servizio essenziale, il Sindaco di Castellabate Luisa Maiuri ha inviato una diffida alla Direzione di Poste Italiane della Regione Campania, segnalando i disservizi anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e presso la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali. Nonostante le tante note di protesta inviate dal precedente Sindaco Costabile Spinelli e le rassicurazioni formulate nel corso degli incontri, nulla è cambiato. La necessità della lettera di diffida è scaturita dai continui ralentamenti e dalle mancanze riscontrate, soprattutto in alcune frazioni del Comune, che hanno indotto l'amministrazione a manifestare l'intenzione, in caso di ulteriori ritardi, nella risoluzione del problema, a produrre di corso all'autorità garante della corrispondenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette. Il Sindaco Luisa Maiuri dichiara in merito alla questione, ci vediamo costretti a procedere ancora una volta con atti di diffida per evitare e ripetersi di quanto sta accadendo ad un servizio pubblico essenziale, nonostante le continue sollecitazioni.